Da quella domenica di maggio il nome di Tania Valguanera non ha più lasciato il tratto di via Libertà all'altezza di via Filippo Cordova. La ragazza, 29 anni, fu travolta e uccisa mentre stava andando al lavoro da un furgone guidato da Pietro Sclafani, poi arrestato con l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. Al netto della possibile incoscienza di chi è la guida, proprio per evitare morti come quella della dipendente Almaviva, lunedì inizieranno i lavori per installare i semafori pedonali a chiamata che saranno collocati prima e dopo l'incrocio. A occuparsene sarà la MG. L'omicidio di Tania Valguanera è stato il caso più grave e drammatico in un tratto di via Libertà comunque pericoloso da attraversare per tutti i pedoni. Già sono stato investito sulle fisce pedonali nel 2001 all'incrocio di via D'Azeglio con via La Marmora, sono stato investito da una golf, sono stato un anno, per fortuna che non sono morto, sono stato un anno in fisioterapia, 4 interventi chirurgici, per fortuna ero giovane e mi sono ripreso. Finalmente lunedì, dopo il fatto di Tania Valguanera, metteranno un semaforo per evitare proprio che in via Libertà... Alla fine il Comune abbia sicuramente fatto una cosa positiva, almeno su questo. E speriamo che ripassi le strisce. E speriamo che ripassi sicuramente le strisce. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.